Noi oggi sono contento solo e esclusivamente del risultato, non sono contento della prestazione perché so che i ragazzi possono e hanno dato sempre qualcosina di più. Capita anche che magari queste giornate, però oggi non sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Oggi se devo fare un riassunto per adesso di tutto il campionato è l'unica partita che i ragazzi non mi hanno soddisfatto. Un giudizio sull'Igorn che vi ha messo in difficoltà, come diceva? Io sono convinto che questa è una buona squadra con un buon allenatore e non mi meraviglio che è alta anche lei in classifica perché secondo me il lavoro poi alla fine paga. È stata una partita dura contro una squadra difficile, hanno sicuramente delle ottime individualità, due punte davanti che ci hanno penalizzato nei tre o quattro errori che abbiamo commesso. Peccato, noi non siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo creato, abbiamo tutto sommato un po' giochicchiato e è andata male. Ci sono alcuni errori da correggere e faccio comunque sempre i complimenti ai ragazzi per l'impegno. Peccato, bisogna andare avanti, vuol dare pagina e ora abbiamo alcune partite sulla carta un po' più facili. Ci sono tolte le partite difficili e ora speriamo di risalire un po', di toglierci qualche altra soddisfazione. Siamo contenti anche se sotto l'aspetto del gioco non abbiamo dato massimo come facciamo in allenamento. Con i compagni come ti trovi? Sì, mi trovo bene, anche essendo più piccolo mi trovo bene. Anche se avete vinto un giudizio sugli avversari? Ecco, era una squadra che sapeva giocare, una buona squadra. Ancora tanti gol vorresti fare? Speriamo, speriamo di continuare così.